Come è stato possibile sconfiggere l'epatite C nel carcere di Opera Milano? Quali sono stati i presupposti organizzativi e in generale come è organizzata la sanità penitenziaria? L'abbiamo chiesto al dottor Cesare Lari. Dottor Lari, innanzitutto ci dà una fotografia del sistema penitenziario milanese. Quali sono gli istituti, che differenze ci sono tra uno e l'altro e come è composto questo settore, questo mondo? La sanità penitenziaria lombarda è seguita e rappresentata all'interno degli ospedali, al contrario di quello che avviene in tutta Italia, dove la sanità penitenziaria è gestita a livello territoriale. Per quanto riguarda Milano, tutti gli istituti penitenziari di Milano sono l'assistenza sanitaria all'interno degli istituti e gestita dalla SST Santi Paolo e Carlo. Gli istituti di Milano sono Opera, che è una casa di reclusione, Bollate, che è la seconda casa di reclusione, San Vittore, che è la casa circondariale e l'istituto penale minorile Beccaria. Che differenza c'è tra una casa circondariale e un istituto di pena? Perché poi è importante per quanto riguarda appunto il nostro tema, che è quello dell'infezione da epatite C. Sì, la differenza tra la casa circondariale e le case di reclusione è che nella casa circondariale sono detenuti che non hanno ancora una pena definitiva e quindi sono tra virgolette di passaggio, possono rimanere per pochi giorni o per qualche mese. Nelle case di reclusione i detenuti hanno una pena definitiva, a volte anche molto lunga e quindi sono costituiti da due popolazioni diverse, una popolazione stabile nelle case di reclusione e una popolazione che invece non è stabile nelle case circondariali. E questo poi è un effetto anche sul tema di oggi, quindi sull'eradicazione da epatite C, dottor Lari? Certo che è importante perché a opera dove l'eradicazione dell'epatite C, la microeradicazione è avvenuta, è avvenuta proprio perché la popolazione è stabile e invece lo stesso risultato non si è avuto pur utilizzando le stesse procedure di opera, non si è ottenuto a San Vittore proprio perché la popolazione è una popolazione che non è stabile. A San Vittore sono mediamente presenti circa 900, poco meno di 1000 detenuti, ma ne entrano ogni anno circa 5000 ed è un continuo entrare e uscire, c'è un tornovere elevatissimo. E questo non facilita le cose in un precesso che richiede anche appunto un forte coinvolgimento del detenuto barra paziente. Senta, lei con le persone che lavorano con lei svolge un'attività importante di supporto a questi quattro istituti di pena, un'attività che mi spiegava di essere di facilitatore, in che senso dottor Lari? Allora, le direzioni mediche svolgono un'attività che è di tipo igienico e di prevenzione, è un'attività di tipo organizzativo e gestionale. Per quanto riguarda l'attività di tipo organizzativo e gestionale noi siamo dei facilitatori, dei nostri colleghi che si occupano in maniera prevalente di clinica, quindi che agiscono sulle patologie dei pazienti, in questo caso i pazienti detenuti. L'attività di facilitazione, ad esempio, c'è stata per il coinvolgimento di tutti gli attori che hanno favorito i risultati anche di opera, quindi sicuramente sulla farmacia siamo riusciti a ottenere che ci sia in ogni istituto penitenziario un medico che è abilitato a utilizzare il portale AIFA in modo che i farmaci per l'epatitaci possano essere prescritti senza dover uscire, il medico uscire dal carcere e andare in farmacia o in ospedale per attivare queste terapie. Per quanto riguarda altro esempio di facilitazione, si è avuta sulla facilitare sia l'esecuzione degli esami ematochimici all'interno dell'ospedale, quindi i contatti con i biologi del laboratorio, di analisi, ma anche la facilitazione nell'utilizzo di test di screening rapidi che in modo sperimentale sono stati utilizzati proprio per avvicinarci maggiormente a tutta la popolazione detenuta. Perché il test è con la saliva, dottor Lari? Il test è un test salivare molto semplice, non c'è un prelievo ematico e questo avvicina ad esempio ai detenuti africani, nordafricani che non gradiscono molto i prelievi e le punture. Per ragioni culturali? Per ragioni culturali. Perché è importante che un istituto di pena sia HCV free? Importante per la società, per la collettività, perché il vantaggio per il singolo è evidente, è guarito, non ha più questo problema, finalmente può affrontare la vita, speriamo anche da ogni punto di vista in un modo diverso, ma perché è importante per la collettività? Sì, è importante per la collettività perché il detenuto che non è più ammalato non infetta il partner, ad esempio, non infetta altre persone con cui viene a contatto nella vita relazionale ordinaria, insomma. E quindi sicuramente anche per la popolazione questo è una cosa vantaggiosa, insomma. la malattia non si sviluppa nuovamente. Anche per il personale carcerario probabilmente questo è un vantaggio, no? Perché avere a che fare con delle persone infettate comunque richiede da sempre una certa preoccupazione. Sì, io credo che sia molto importante puntare anche per il detenuto su un discorso di diventare protagonista della propria salute, da una parte quindi curandosi e guarendo, ma dall'altra parte di diventare protagonista anche di un atto d'amore per la società che ci circonda, per le persone che ci circondano, che sono i familiari, ma anche la popolazione della polizia penitenziaria nel caso del carcere o comunque la popolazione civile, insomma. Grazie a tutti.